Oggi siamo con Marcello Larosa, CIO e co-founder di Apromor, con cui parliamo di Process Mining. Quali sono i vantaggi che il Process Mining offre al settore bancario assicurativo rispetto ai metodi tradizionali di ottimizzazione dei processi? Il Process Mining è una metodologia basata sui dati e sull'intelligenza artificiale che ci consente di comprendere come funzionano i nostri processi aziendali, di navigare nella complessità e soprattutto di capire come intervenire per migliorarli sotto il profilo dell'efficienza operativa e della compliance. Il tutto basato su evidenze, quali quelle fornite dai dati transazionali piuttosto che percezioni. Pensate per esempio ad un processo per la gestione di mutui sull'immobile in una banca o un processo per la gestione di sinistri in un istituto assicurativo. Questi processi, quando eseguiti, attraversano tutta una serie di sistemi enterprise ed applicativi, lasciando tracce sotto forma di una vera e propria digital footprint. Questa traccia, o Event Log, può essere utilizzata in input al Process Mining per scoprire in modo automatico il modello di processo agito e non percepito e poi per utilizzare questo modello di processo come punto di partenza per identificare potenziali anomalie, per esempio rallentamenti dovuti a colli di bottiglie o rilavorazioni o addirittura violazioni di regole normative o di pollisi interne. Ma soprattutto il Process Mining, costruendo in modo automatico il digital twin del processo, il gemello digitale, ci aiuta a testare diversi interventi what if per capire come migliorare il processo, stimandone l'impatto che questi interventi avrebbero sui tempi, sui costi operativi e sul utilizzo delle risorse. Per esempio tornando al processo di gestione dei mutui aziendali, il Process Mining ci può aiutare a capire dove intervenire con l'automazione e che tipo di automazione utilizzare per migliorare l'efficienza operativa, oppure ancora dove è più opportuno utilizzare il Change Management, per esempio per rimuovere dei check superflui o ridimensionare l'organico che lavora al processo. Quindi in conclusione il Process Mining ci aiuta rispetto ad approcci tradizionali perché ci offre dei risultati in tempi significativamente più brevi e soprattutto risultati basati su evidenze piuttosto che percezioni. In che modo l'implementazione del Process Mining ha contribuito a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre i costi delle operazioni bancarie e assicurative? Ci sono svariate applicazioni del Process Mining in ambito Financial Services. Prima di tutto possiamo utilizzarlo per ottimizzare tutti i processi customer facing, come processi per la gestione dei sinistri e dei mutui, della gestione delle polise e underwriting. Possiamo anche utilizzarli in tutto il mondo customer service, come per esempio processi per la gestione dei ticket, delle dispute sui pagamenti e delle lamentele, e poi su tutta una serie di processi che sono particolarmente importanti da un punto di vista di compliance, come customer onboarding e KYC. Chiaramente il Process Mining ci può aiutare anche a migliorare processi di back office, come processi di procurement, di finance e di sales. Per esempio qui in Australia abbiamo aiutato una banca multinazionale ad accelerare il proprio programma di digital transformation. Prima di tutto abbiamo utilizzato il Process Mining per scattare una fotografia del processo ASIS, sui sistemi legacy ormai da deprecare. E questo ci è servito per capire quali erano i vincoli di sistema imposti proprio dalla tecnologia legacy. Vincoli che dovevano essere evitati quando si andava a ringegnerizzare questo processo su piattaforme cloud moderne. Dopodiché abbiamo utilizzato la simulazione attraverso la costruzione di un digital twin del processo in modo automatico, col Process Mining, per testare diversi carichi di lavoro in modo tale da definire in modo puntuale, da dimensionare in modo puntuale l'organico richiesto per eseguire questo processo sotto alcuni threshold, alcune soglie di performance. Infine, una volta che la banca aveva posto in esecuzione questo processo, abbiamo utilizzato i dati transazionali creati dal processo ringegnerizzato per alimentare dei cruscotti nella piattaforma di Process Mining e quindi per monitorare attivamente il processo e verificare se effettivamente il processo ringegnerizzato adempiva ai target di performance preposti all'inizio del progetto. E questo tutto in tempi brevi, nell'ambito di poche settimane piuttosto che mesi. Negli Stati Uniti abbiamo poi aiutato un istituto assicurativo ad utilizzare il Process Mining sotto il banner dell'Operational Excellence, cioè per recuperare efficienza operativa non soltanto da un punto di vista di costi e turnaround time, ma soprattutto da un punto di vista del miglioramento dell'esperienza del cliente. E il risultato è stato che sono state sbloccate un numero elevato di ore di lavoro, quindi che ha portato in termini di produttività ad un aumento significativo della produttività, nonché ad un aumento importante della Customer Experience.